Per tutta l'amministrazione, alla cittadinanza, speriamo che il 2021 sia un anno meno funesto del 2020 e che sia un momento di rinascita per tutta la nostra comunità e per tutto il mondo. I vaccini ci danno questa buona speranza e ci impegniamo tutti affinché la nostra cittadinanza progredisca. Ora insieme faccio auguri da tutto il gruppo della maggioranza e per la minoranza che presente il dottorio Ferris farà a lui gli auguri anche dalla loro parte. A nome della minoranza mi assorgo gli auguri che ha pronunciato il sindaco. In effetti è stato un anno difficile, un anno però che ha visto il nostro paese presente per quanto riguarda gli aiuti che sono stati dati il più possibile alla cittadinanza, alle imprese e a tutti i cittadini che ne avevano necessità e bisogno. Un'amministrazione che ha cercato di collaborare, una minoranza con questa amministrazione, come si è trattato di portare gli aiuti concreti a chi ne aveva bisogno e chi ha sofferto di più per la pandemia. Io mi auguro che il prossimo anno sia veramente un anno di rilancio, un anno di ristoro, come dicono oggi è un termine molto usato, un ristoro per tutti i cittadini a cominciare da quelli che hanno più necessità, ma che sia un rilancio anche dal punto di vista politico perché il nostro paese deve avere quello che merita, un rilancio in tutti i sensi per portare avanti tutte le iniziative che sono state intrarrese e anche quelle che si tenderanno intrarremmere. Un buon lavoro a tutti e auguri fortissimi a tutti i cittadini che ne hanno bisogno. Intanto ci siamo e questo già è una gran cosa e un grande risultato. Grazie. Auguri. Auguri. Auguri a tutti.